vediamo nel video una tecnica per creare una decorazione dipinta color oro realizzata su una riproduzione di cornice toscana del rinascimento per accelerare i tempi di produzione abbiamo sperimentato l'uso di speciali pennarelli color oro che se usati correttamente e con la giusta leggerezza ci danno il risultato sperato in sostanza dopo aver creato una traccia per mezzo di carta carbone e carta da lucido procediamo con il disegno che vogliamo realizzare ricalchiamo cioè la traccia ottenendo sui quattro angoli della cornice un tipico ornato toscano del 500 successivamente dopo aver invecchiato la tonalità dell'oro per mezzo di un processo di patina otterremo il risultato cercato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti